allora bilanciere da 20 chili bumper da 10 bumper da 10 il giangio è un battista salto al water studio la 22 categoria master 40 regola Ti dicevo che volevo cantare, tu cosa volevi fare? E tu cosa volevi fare? Ti ho lasciato in una scatola per poterti ricordare, perché cucina e di riporti il sole sempre a non dimenticare. Ti ho trovato in una scatola, non c'è il tuo numero di anni, ti ho cercato ma niente da fare, perché cucina e di riporti il sole sempre a non dimenticare. Ma io non ti ho dimenticata, io non ti ho dimenticata, ricorda tu, ricorda tu, ricorda tu, siamo la stessa rossa. Ti ho trovato in una scatola per poterti ricordare, perché cucina e di riporti il sole sempre a non dimenticare. Ti ho trovato in una scatola per poterti ricordare, perché cucina e di riporti il sole sempre a non dimenticare. Ti ho trovato in una scatola per poterti ricordare, perché cucina e di riporti il sole sempre a non dimenticare. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti